Sono stati oltre 11,5 i milioni di euro che Finest, la società finanziaria per l'internazionalizzazione delle imprese del nord-est, ha erogato a favore dei propri partner operativi nel territorio del Triveneto. Il dato è emerso nel corso dell'Assemblea dei Soci che a Pordenone ha approvato il bilancio 2014-2015. Dal documento contabile si evincono una serie di dati positivi dai quali emerge una gestione oculata delle risorse e una focalizzazione sulle necessità finanziarie a favore delle aziende che operano nel campo dell'internazionalizzazione. Nello specifico prosegue con costanza nel corso degli ultimi tre esercizi l'incremento dei fondi erogati agli investitori. L'andamento del conto economico evidenzia un reddito all'ordo delle imposte pari a poco meno di un milione di euro, mentre il risultato netto di bilancio si è chiuso a 1,12 milioni di euro, sostanzialmente in linea col valore dell'esercizio precedente. Oltre i 5 milioni invece i proventi della gestione ordinaria. Per il presidente di Finest Mauro del Savio sono diverse le chiavi di lettura di questo bilancio. Si caratterizza per un incremento dell'erogato del più 25 per cento rispetto all'anno precedente, la conferma dell'utile ma soprattutto la conferma della mission di Finest che significa internazionalizzazione. Su questo pilastro si basa l'attività fondamentale della nostra società. Come spiega il direttore di Finest Eros Goi, nonostante la finanziaria abbia appena provato il bilancio, la società è già proiettata al futuro. I nostri partner per il futuro devono aspettarsi una Finest che in qualche modo deve riuscire a dare non solamente un apporto di finanza ma assolutamente un apporto di consulenza. Nei mercati finanziari di oggi è molto facile potersi indebittare presso le banche, quello che è molto più difficile è ottenere la consulenza più opportuna per affrontare una sfida importantissima che è quella dell'internazionalizzazione. Grazie a tutti.